da fano tv buona giornata amici questa è la rassegna stampa con la quale iniziamo la nostra giornata vediamo subito con al manaco del giorno chi si festeggia oggi il santo il santo è sant'angelo di gerusalemme fu monaco insieme al fratello gemello sul monte sul monte carmelo la sua famiglia si era convertita dall'albreismo al cristianesimo ottenne dal papa onorio terzo l'approvazione della regola che aveva redatto san broccardo san broccardo aveva messo ordine alle manifestazioni spontanee di remitaggio che molti cristiani avevano adottato ritirandosi sul monte carmelo il monte frequentato a suo tempo dal profeta elia predicò poi in sicilia e fu ucciso dai sicari di un signorotto al quale aveva osato per il quale aveva condannato la sua dissolutezza la sua superbia la sua arroganza e fu ucciso a colpi di spada questo è sant'angelo di gerusalemme un santo forse poco conosciuto ma un santo importante nella storia della chiesa vediamo le previsioni del tempo vediamo che le condizioni meteo sono in miglioramento rispetto al maltempo che ha caratterizzato le festività del primo maggio un tempo più stabile salvo residui addensamenti nelle zone interne delle marche ma senza effetti di rilievo i venti sulle coste spireranno da nord nord ovest nell'interno con una tensione più debole da nord le temperature si aggirano sui 12 e i 20 gradi e le massime si alzano un pochino quindi tra poco farà più caldo rispetto alle ore più fresche del mattino e allora ci ho detto su questo inizio vediamo la rassegna stampa a partire dal corriere adriatico questa mattina ma la notizia principale appare su tutti i giornali ed è quella del successore di monsignor armando trasarti nell'episcopato di fano fossombrone cagli e pergola una diocesi piuttosto vasta una diocesi importante con molte anime ebbene monsignor trasarti ha finito il suo incarico di vescovo va in pensione ritorna nella sua cara fermo per noi una grande perdita ma comunque abbiamo il sostituto ed è forse il giovane no forse senza forse è il giovane è il vescovo più giovane di fano da molto tempo a questa parte a soli 55 anni si tratta del reverendo andrea andreozzi lo vediamo qui nella fotografia lo vedremo poi anche in altre fotografie pubblicate dal resto del carlino che evidenziano la sua indole giovanile la sua indole sportiva insomma non più un vescovo a cui bisogna inchinarsi con tante riverenze ma un amico di tutti i fedeli il nuovo vescovo sulle orme di trasarti la vita è bella perché sa sorprendere è un estrapolato dal discorso appunto che è stato pronunciato ieri in cattedrale a fano dove è avvenuta appunto la rivelazione dell'identità del nuovo preso è nominato don andrea andreozzi rettore del seminario regionale umbro ad assisi e parroco di sant'elpidio amare nella chiesa di san pio decimo le raccomandazioni dei monsignor armando che lascia veramente un'opera ingente realizzata quasi quasi 16 anni di missione qui nel nostro territorio una missione importante sia dal punto di vista evangelico che dal punto di vista strutturale ebbene una delle eredità che lascia monsignor trasarti al nuovo vescovo è quella del compimento del restauro della chiesa di sant'agostino nei pressi degli scavi detti di vitruvio per cui ci sono soldi e progetto quindi sarà un nuovo edificio da adibire a museo diocesano delle opere d'arte da rettore dunque al seminario regionale umbro di assisi a vescovo di fano fossombrone caglie pergola questo è il mandato che il vaticano ha conferito al reverendo andrea andreozzi 55 anni ed agosto il cui nome è stato svelato ieri mattina in cattedrale a fano una cattedrale veramente gremita di fedeli c'erano anche ovviamente tanti sacerdoti che attendevano il nuovo referente e coloro che dovrà poi amministrare la chiesa della diocesi speriamo per lungo tempo ebbene insomma è bello leggere questo articolo che appare anche sul resto del carlino lo vediamo qui questo è il titolo che appare nel giornale don andreozzi il vescovo sportivo e lo vediamo qui in bicicletta con come sempre c'è un semplice un semplice ciclista che gira per la città è originario di montappone fermo dal 2020 ricopriva il ruolo di direttore del seminario umbro l'annuncio ieri in uomo del del pastore uscente armando trasarti che diventerà amministratore apostolico fin quando il nuovo vescovo non farà il suo ingresso nella città monsignore andreozzi sarà nominato vescovo però non nella cattedrale di fano ma nella cattedrale di fermo e poi arriverà con tutti i suoi paramenti a prendere possesso della diocesi di fano e dell'entroterra la passione per il calcio i rimproveri della madre nel suo primo messaggio di saluto che il nuovo vescovo ha fatto ai suoi nuovi diocesani ha detto che conosce il nostro territorio per le trasmissioni sportive lui ha seguito regolarmente e ha detto che in fin dei conti quando era bambino e la madre pensava che si sposasse l'ha messo in guardia oh poveretta quella lì perché insomma il bambino aveva un carattere piuttosto ribelle ma ora la sposa di monsignore di monsignore andreozzi è la sua diocesi e a questa dedicherà tutta la sua attenzione passiamo alle altre notizie anche se molto ci sarebbe ancora da dire su questo evento che è veramente importante vediamo le altre notizie torniamo sul corriere adriatico e parliamo di sanità è stata potenziata la chirurgia ortopedica soprattutto quella specialità che era in bilico per quanto riguarda l'attività dell'ospedale santa croce primo passo per liste e mobilità infatti molti pazienti che hanno bisogno di interventi di carattere ortopedico emigravano anzi emigrano possiamo dire dalle marche alla vicina romagna e per frenare un po la mobilità passiva ecco che la giunta regionale sta incrementando l'attività ortopedica del santa croce dal prossimo 10 maggio sarà potenziata l'attività chirurgica di ortopedia e traumatologia nelle sale operatorie del santa croce di fano oltre agli interventi in ricovero breve è ora previsto che il personale del reparto installi anche le protesi lo stesso tipo di operazioni è specificato in una nota diffusa dall'azienda sanitaria territoriale che viene le stesse operazioni che vengono effettuate all'ospedale san salvatore di pesaro ebbene è una grossa novità assicura il direttore del reparto il dottor luca meme la scelta di riproporre tali prestazioni anche al santa croce ha come finalità di potenziare l'offerta sanitaria ridurre i tempi di attesa e migliorare il comfort alberghiero mantenendo al tempo stesso alti gli standard di qualità ebbene finalmente una integrazione una risposta a tutti i dubbi a tutte le preoccupazioni che hanno state sollevate dopo che la giunta regionale delle marche aveva presentato la bozza del piano sanitario nella sala del gonfalone nei giorni scorsi a Fano dove ortopedia insieme a gastroenterologia erano le due specialità insomma che venivano più messe in discussione e quindi è quasi una risposta anche a tutte le tesi a tutte le osservazioni che aveva fatto il corriere adriatico ma passiamo ad un altro importante argomento che in questi giorni tiene banco sui giornali quello della variante di centinarola variante l'affare del supermercato ebbene un articolo questo firmato da lorenzo furlani che evidenzia i precedenti dell'acquisto di quel terreno che dovrebbe essere cambiato da terreno agricolo a terreno di carattere commerciale variante l'affare del supermercato terreni pagati sei volte il loro valore l'area agricola di due ettari e mezzo con casolare inagibile venduta già nel 2018 a un milione di euro veramente una cifra astronomica rispetto al reale valore insomma un terreno agricolo non valeva tanto soprattutto poi se c'era anche un casolare che era inagibile ebbene tutto questo che cosa lascia credere? Lascia credere che ovviamente coloro che hanno acquistato pensavano di valorizzare questo terreno sperando di ottenere dei permessi per poterci fare qualcosa di più strano quello che è accaduto secondo il Corriere Adriatico strano molte volte infatti usa questa parola per diversi argomenti strano perché il campo ai margini di centinarola è passato di proprietà a valori abnormi rispetto a quelli di mercato strano perché la variante contraddice l'impegno dell'amministrazione seri teso a ridimensionare l'impatto edificatorio e quindi a non consumare suolo questo invece lo consuma strano ancora per altri motivi per esempio strano per quanto accaduto per insomma tutte le vicissitudini, tutte le polemiche che poi la cosa ha determinato che aiuti il prossimo paga una taria ridotta un altro articolo importante a fondo pagina una delibera approvata nell'ultima seduta del Consiglio Comunale consente a tutte le associazioni che si dedicano a scopi sociali come quella di dare alimenti oppure riciclare mobili invece di mandarli in discarica e quindi di farne un rifiuto ebbene di far pagare a questi soggetti metà della tariffa che loro spetterebbe per quanto riguarda la Tari la tassa sui rifiuti c'è una diminuzione del 100% della parte mobile quella insomma che può essere variata è una presa di posizione importante che è stata assunta dall'amministrazione comunale e che è stata resa nota ieri in una conferenza stampa dagli assessori Sara Cucchiarini per quanto riguarda le finanze e Dimitri Tinti per quanto riguarda il welfare di comunità sono state introdotte nuove agevolazioni nel regolamento della Tari approvate nell'ultima seduta del Consiglio Comunale ciclo perdonale per Bellocchi progetto e fondi disponibili un passo in più per la realizzazione di questa importante pista ciclabile che dovrà collegare la città con la zona industriale di Bellocchi passando per via Papiria e per la zona del campo di aviazione percorso da 950 mila euro funzionale a parco urbano piscina e pista del Metauro sono un po' questi i punti di collegamento che dovrà unire la pista ciclabile sono esattamente 871 metri di lunghezza per 4 di larghezza di cui 2,5 per il percorso ciclabile e 1,5 a disposizione dei pedoni la spesa stimata abbiamo detto è 950 mila euro di cui quasi tutti 907 erogati dal Ministero dell'Interno per scando tra i fondi destinati agli interventi di rigenerazione urbana ebbene sono numeri importanti quelli che vengono enunciati in questo articolo il progetto esecutivo è stato appena approvato è stato redatto da un raggruppamento temporaneo di imprese formato da 5 tra studi singoli e associati ed è costato 40 mila euro solo il progetto veniamo un po' alla cronaca vediamo come a Fossombrone è stato individuato una persona si tratta di un giovane di 26 anni che è stato sottoposto poi agli arresti domiciliari per tentata estorsione e minacce sono questi i controlli che sono stati effettuati dai carabinieri ed è stato sequestrato anche della droga dell'Ascis i carabinieri hanno rintracciato è sottoposto ai domiciliari questo giovane per nei confronti del quale poi pendeva anche un ordine di esecuzione della pena di due anni e due mesi per i reati di lesioni gravissima minaccia e portodarmi in luogo pubblico commessi a Fano nel 2018 ed ora andiamo a San Lorenzo in campo a San Lorenzo in campo è il sindaco dell'Onti che interviene per quanto riguarda quell'edificio che occludeva che sta occludendo, diciamo meglio la visuale di Piazza Verdi è stato un edificio oggetto di diverse proteste volevano che fosse rimosso il sindaco invece dice no, quello è un edificio importante importante sia per quanto riguarda l'urbanistica della città sia per quanto riguarda la sua funzione le modifiche irrealizzabili dice dell'Onti avanti dunque con la nuova opera il sindaco risponde ai 145 firmatari sull'ex scuola media in piazza questo è lo scheletro della nuova scuola media che sta per essere realizzata davanti a Piazza Verdi e il sindaco dice che è una cosa importante fare modifiche sostanziali sull'edificio dice non è possibile non si possono ridurre le dimensioni perché poi insomma il progetto verrebbe completamente snaturato tutto ciò è tecnicamente economicamente giuridicamente e amministrativamente inattuabile cioè tutto ciò quello che dicono i 145 firmatari che vorrebbero insomma che le cose non fossero cambiate dal punto in cui queste si trovano e vediamo la pagina di Senigallia oggi pubblicata dal Corriere Adriatico si tratta dell'Assemblea della Banca di Credito Cooperativo di Pergola e di Corinaldo che si riunisce domenica prossima 7 maggio presso la palestra comunale Caprini Minucci di Pergola ebbene una iniziativa che si ripete dopo un periodo di stasi ovviamente causata dalla pandemia dal Covid e dal 2019 che i soci non venivano più riuniti in questo importante incontro e ora invece lo si fa e quindi c'è il bilancio la relazione e tutto quello che accade nelle solite assemblee delle banche di credito cooperativo vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro e vediamo subito l'apertura è dedicata a una nuova strada la bretella gamba pica il countdown parte con la cabina di regia gli operai di Marche Multiservizi sono già al lavoro per spostare i sottoservizi e spunta la stazione di raccordo per i cantieri delle opere compensative dell'A14 insomma si fa anche si punto anche l'attenzione sul casellino di Santa Veneranda ebbene quali sono i tempi delle opere accessorie alla terza corsia queste opere che la società autostrada si è impegnata a realizzare dopo aver realizzato la terza corsia autostradale ebbene la circunvalazione di Muraglia sarà ultimata nell'agosto di quest'anno i lavori sono in corso la bretella gamba pica di cui si parla in questo articolo sta per iniziare i lavori sono in corso le opere propedeutiche quelle che devono essere realizzate per prime e poi c'è anche la circonvalazione di Santa Veneranda dove anche qui sono in corso le opere propedeutiche quelle che dovranno poi anticipare la realizzazione della opera viaria vera e propria e poi possiamo ovviamente aggiungersi anche il secondo casello di Santa Veneranda che però sarà iniziato il prossimo anno nel 2024 al momento si sta ultimando il progetto esecutivo perseguitati dai vicini per colpa del cancello vediamo qui in questa pagina due notizie di cronaca la prima parla di una persecuzione che una coppia di inquilini faceva nei confronti dei suoi derimpetai perseguitati dai vicini per colpa del cancello insomma c'era un cancello uno lo voleva chiuso uno lo voleva aperto i due hanno litigato pensate per quale grave motivo hanno litigato ma hanno litigato su serio fino a incutere veramente timore e paura a coloro che erano oggetto di questa persecuzione e perciò sono stati rinviati a giudizio si tratta di una 37enne e di una 35enne residenti a Vallefoglia secondo l'accusa in concorso tra loro all'interno dell'area condominiale che condividevano con i vicini di casa avrebbero minacciato e molestato una coppia di 56 e 52 anni anche i loro figli minori e tanto da causare uno stato d'ansia e paure tali da cambiare le abitudini di vita ebbene i due sono stati rinviati a giudizio ma dall'altra parte c'è l'avvocato che difende appunto gli imputati ed è pronto a difendere la coppia accusata di stalking questo è un po' quello che sta avvenendo pensate quali gravi motivi hanno determinato questa lite questo dissidio nell'altro articolo invece si parla di droga ex punca bestia a processo dopo dieci anni la donna aveva fatto perdere le sue tracce finendo in Spagna ebbene era l'appartamento dei punca bestia dove i carabinieri hanno trovato droga e chi l'aveva affittato al gruppo è finito nei guai a dieci anni dai fatti si tratta veramente di una 36enne pesarese che ora finisce a processo dopo un lungo soggiorno all'estero è stata individuata nonostante che fosse trascorso tanto tanto tempo vediamo anche quello che sta accadendo sul parco San Bartolo dove era in programma la la erezione di una alta antenna la cosa era stata lasciata così dormire fino adesso la cosa era già in programma da due anni ma adesso quando si eleva si è capito quale impatto ambientale questa nuova struttura sta determinando sulla magnifica posizione di Fiorenzuola parco firme contro la maxi antenna ma il progetto iniziale era diverso la presidente Filippini spiega che il quartiere San Bartolo ha preso dell'autorizzazione a giochi fatti vedete qua l'impatto ambientale dell'antenna che sorge un po' tra la boscaglia tra la zona verde del San Bartolo insomma sono sempre impatti che non danno una grande immagine del territorio lo spettacolo del San Bartolo torna con il format We Nature da domani fino a domenica un ricco programma all'insegna dell'ambiente e vediamo ora la pagina di Urbino dove si parla dell'accordo raggiunto per la baita delle Cesane la baita accordo di tre comuni ma adesso però domina il degrado c'è stato sottoscritto un patto tra Urbino Fossombrone e Isola per l'acquisto all'asta della regione il recupero della funzione pubblica della struttura la baita delle Cesane finalmente è giunta ad una decisione importante il comune di Fossombrone con estrema sensibilità dice il giornale ed una programmazione a lungo termine che tocca il campo turistico e anche altri campi come quello escursionistico enogastronomico ciclistico socioassistenziale ha sborsato una caparra pari al 10% della base d'asta di 160.000 euro quindi 16.000 per partecipare all'asta indetta dalla regione mare che vuole appunto realizzare questa struttura che è importante importante abbiamo visto dal punto di vista turistico sociale escursionistico e via dicendo quindi una nuova veramente attrattiva in più sulle cesane vediamo rapidamente anche il resto del Carlino sfogliando il giornale dopo aver letto le pagine che riguardano la nomina del nuovo vescovo di Fano ritorniamo per quanto riguarda l'argomento della tarietica la riduzione in bolletta per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti per quelle associazioni che svolgono un ruolo sociale raccogliendo alimentari per le famiglie fragili oppure riciclando mobili oggetti che altrimenti finirebbero in discarica non fai sprechi e ricicli gli oggetti ecco la tarietica scontata del 50% e poi il giornale ancora evidenzia la rabbia del comitato di Carrara perché non ci sta ha fatto per quanto riguarda la decisione dell'amministrazione comunale di destinare parte dei soldi che Terna impiegherà nel territorio per risalcire un po' i cittadini dei disagi per la realizzazione dell'Adriatic Link questo elettrodotto sotterraneo che dovrà collegare le marche con l'Abruzzo per quanto riguarda la realizzazione dell'ampliamento della biblioteca federiciana di Fano l'importante il progetto è bellissimo è importante costa una barca di soldi circa 10 9 10 milioni di euro e sembra che 2 milioni sarebbero tratti appunto dal pacchetto di Terna e Carrara non ci sta perché Carrara vuole che gli investimenti importanti vengano fatti nel suo territorio perché Carrara sopporta i disagi maggiori per questa opera per questa realizzazione e ancora oggi non sono risolti i problemi per quanto riguarda il rumore emesso dalla centrale elettrica che veramente rende impossibile la vita e il sonno soprattutto di coloro che abitano nei pressi della struttura passiamo a San Costanzo vediamo le opere che si stanno realizzando Marciapiedi Salvapedoni San Costanzo Respira uno verrà realizzato a Cerasa fino alla croce il secondo è sulla strada di Mondolfo l'assessore Ciani l'assessore vice sindaco al bilancio dice abbiamo un milione a disposizione e quindi lo impiegheremo nel territorio vediamo anche la pagina di Urbino prima di concludere tunnel e strada con i fondi si possono fare secondo l'ex vice sindaco Massimo Guidi la nuova strada e questa nuova opera che è stata progettata ai tempi dell'architetto De Carlo è ancora possibile e ancora attuabile e con questa prospettiva terminiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani sempre alle 7 puntuale come ogni giorno grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti Grazie a tutti.